Il mio nome è Francesco Iagodiello e il titolo della mia presentazione è Fatih Cretti, Dimensi di Magnazzi in Affiliati Perfino di Ticastinasi. Un po' di parole su queste gradi. Sono molto usate grazie alla combinazione molto interessante delle proprietà meccaniche e normalmente la matrice controlla le proprietà. La matrice di Magnazzi sono usata per designare le differenti Duttallica stagioni. Quindi possiamo parlare di Ferdì Perlittica, Ferdì Duttallica stagioni, Martensitica e così via. Sono molto usati per esempio per ruoli, gears, fernshafts, pipe lines e così via. Focusing su Fatih Cretti propagazione, Qui potete vedere alcune curve di Kretti propagazione che abbiamo ottenuto alcuni anni fa con diversi microstruttori, in modo da più ferritici a più ferritici, e anche alcuni ostermi di Tarka stagioni. Abbiamo trovato che la Ferdì Kretti propagazione era influenzata dalla matrice microstruttura, soprattutto per considerare i valori più alti e i valori più alti. Abbiamo anche investigato, qualche anno fa, l'evoluzione della frattura di Ferdì Raffinazione. Abbiamo trovato che l'increzione del valore di Duttallica e il valore di Duttallica implica un'increzione della frattura di Ferdì Raffinazione. Abbiamo anche proposto un'enhancita di effetti connessione della frattura di Ferdì Raffinazione e della distribuzione di Ferdì Ferdì Raffinazione soprattutto per considerare ferritici, perlitici o ostermi di Tarka stagioni come vedete in questo schermo. In Malaga, in una presentazione, parlavamo di dimensioni di micro-mechanism in Berliti di Tarka stagioni e abbiamo trovato che il trattore di Ferdì Raffinazione era intergrammulari con il trattore di Ferdì Raffinazione e il transgrammulari e abbiamo proposto che il micro-mechanismo potrebbe essere discontinuo con le due generazioni che corrispondono a Ferdì Raffinazione e con la raffinazione di Ferdì Raffinazione che hanno trovato la raffinazione che hanno trovato il micro-mechanism e abbiamo avuto questa evidenza da nostre osservazioni di scannere e microscope e osservazioni. Focusingi su Ferdì Raffinazione Raffinazione abbiamo proposto che questi Ferdì Raffinazione non potrebbero considerati come mirari, voici impediati in metrizi ma il raffinazione era più complesso. con la iniziazione di Ferdì Raffinazione insieme i noduli che potrebbero sviluppare insieme i noduli dei noduli in questo lavoro in addition dopo Malaga abbiamo anche lavorato sui effetti e abbiamo trovato che dopo qualsiasi la Ferdì Raffinazione è diventata più e più tortuosa con la bifurrificazione sulla Ferdì Raffinazione con una zona grande plastica sulla Ferdì Raffinazione che diventavano più e più grande con l'incorso dell'intensità dell'intensità e le Ferdì Raffinazione sono davvero evidenti ma per fare scannare sull'observazione di questo TIP dopo qualsiasi overload abbiamo trovato che la Ferdì Raffinazione è più corretta per parlare di una zona plastica perché insieme con la zona con le bifurrificazioni abbiamo anche alcune secondarie e alcune nostre graffine condizioni in questa zona la Ferdì Raffinazione in questo lavoro abbiamo analizzato e investigato il mecanismo Ferdì Raffinazione Ferdì Raffinazione dove abbiamo questa microstructure con bullseye morfologia con nodules imbediti in un ferdì con una matrice per questa magnificazione e la testa è abbastanza semplice semplicemente testa performata a 0.1 come test e secondo ISTM E647 standard quindi semplice test ma performa scannando elettromicroscopi per test in order to investigare l'evento e vediamo che tortuosi è forte effettuato per distribuzione la prima figura non è evidente ma c'è tutta il test e in la figura qui vediamo i mass sono i graphite che sono cross i graphite che graphite la propagazione attraverso attraverso vediamo che la parte della e il comportamento è influenzato dalla presenza delle grafite e è chiaro che il stress è influenzato dalla presenza della grafite di grafite in addition possiamo vedere che abbiamo anche osservato dei secondi dei secoli e dei fero coloni e delle colonie se consideriamo le immagini che attraverso 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 i meccanismi corrispondenti alla grafite erano completamente diverso che erano che i meccanismi erano attraverso un meccanismo attraverso 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 gradiente attraverso attraverso test di attraverso attraverso un gradiente il modto attraverso materiale devia considera che un composizato il grafico di metra metrica che possiamo proporzare diverse situazioni Prima di tutto, dobbiamo scegliere il risultato di risultato di risultato del valore del delta K e del valore del delta K. E, corrispondendo a questa situazione diversa, dobbiamo analizzare le situazioni diverse che il crack tiene. Possiamo avere una situazione dove, in fronte, non ci sono alcuni valori del delta K. In questo caso, il comportamento è influenzato dalla macrostructure di metri. In questo caso, considerando che il diametro 3D, o il diametro 3D sono più o meno la stessa della zona del valore del valore del valore del valore del valore, il periodo di strano è influenzato in una sorta di elementi monocrystal. Ma, se abbiamo la propagazione del crack tip, e, sempre considerando di avere i valori del delta K, una cosa dei valori del valore del valore del valore del valore del valore. Abbiamo un grande punto di vista della grafica della grafica di metri. Quindi, possiamo avere questa situazione, dove, da l'altro lado, abbiamo una deformazione plastici, e da l'altro lado, abbiamo una situazione elastici. In questo caso abbiamo detto che il creativo può propagare, ma abbiamo anche l'inizio e la propagazione del debondimento tra il graphite e il matrix. Il creativo propaga e poi trova il nodulo di graphite e il nodulo di graphite propaga in questo modo, utilizzando il debondimento tra il nodulo di graphite e il matrix come una parte preferenziale, e questo è quello che osserviamo. Se l'applicazione del taglio è più alto, possiamo avere una situazione diversa. Non è così frequente, perché la zona di plastica può essere davvero più grande che la zona di plastica, ma se non abbiamo dei noduli di graphite, nella zona di plastica, in questo caso, il graphite, i grazi e i coloni, hanno un po' di rispetto alla zona monotonic-plastic, e il nostro materiale può essere considerato come un materiale e un materiale di poli-cristall. Ma è più frequente la situazione che possiamo vedere, dove abbiamo alcuni noduli di graphite embedded in la zona monotonic-plastic, ma non sono inizialmente 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 inizialmente, e possono modificare la distribuzione di stress, il tipto di crack, e il crack segue il path che è attrappato dalla presenza dei grafite noduli. La conseguenza è, corrispondendo con un'attaccae valore, un'attaccae valore più alta, Quindi, come conclusione, possiamo dire che la principale contribuzione di grafite noduli che immaginano i micromatrici è il grafite bonding. Questo è per l'interazione della zona monotonic-plastic con il grafite noduli e il grafite noduli di interface, e questo implica un'attaccae del grafite noduli di grafite noduli. Per esempio, abbiamo anche fatto alcuni test di overload. Abbiamo alcuni risultati qui, e il comportamento è completamente diverso se lo compagno con i target sironi. Abbiamo un più evidente planificazione di grafite e vi mostreremo questo in un mondo più complicato. Quindi, grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.